Video lettera aperta destinata all'avvocato Daniele Vecchi del Foro di Pistoia esercente l'attività di un servizio pubblico, difensore del giudice tributario e dottor commercialista Massimo Morini, assolto dai reati contestatili da un sodalo criminale che conta 43 magistrati tra inquirenti e giudicanti per il solo fascicolo RG 1376-01 della Procura della Repubblica di Pistoia. La difesa tecnica del Morini si è associata a detto sodalo che ha manipolato gli atti di fatti, i capi di imputazione, affinché il Morini diventasse innocente, assicurando e legittimando il libero godimento dei proventi stellari, dei reati mostruosi commessi a mio danno. Premetto che sono processata per aver detto pubblicamente all'avvocato Vecchi che fosse un soggetto delinquente, subdolo, mellifluo, uguale al suo protetto, il falso dottore Morini, e che si è avvasso della frode processuale che era consentita dai magistrati, nonché suggeriva le risposte ai testimoni falsi, colludendosi con i magistrati. O è avvocato pure l'attività delinquenziale dei magistrati, nominativamente indicati, ma l'avvocato ha riconosciuto la verità dei fatti, quindi senza contestarla quali frase diffamatorie. Questa lettera scaturisce dalla richiesta di visita psichiatrica reiteratamente sollecitata dall'avvocato Vecchi, parte offesa assieme al Morini e autore dell'imputazione del reato di diffamazione doppiamente contestatomi, nel processo penale RG 843-08, in corsa a mio carico davanti al giudice di pace di Pistoia, avvocato Chiara Guazzelli. Non mi è stata data a sapere la motivazione in un l'altro della richiesta della visita mentale, degli atti successivi, eccetto l'avviso della liquidazione della parcella della psicopolisia. Ritengo che la visita psichiatrica fosse molto offensiva, umiliante e degradante, anche per la mia famiglia, perché questa non viene richiesta nemmeno ai terroristi, agli assassini, ai mafiosi, per reati molto più gravi e più pericolosi del reato di diffamazione. Questa volta la richiesta dell'avvocato è stata accolta dal giudice di pace, collega di professione dell'avvocato Vecchi, con il quale il giudicante si interfaccia quotidianamente nell'esercizio della sua funzione pubblica. Lo scopo della visita coatta è di farmi dichiarare incapace di intendere e volere per mettere sotto stretto controllo ogni attimo della mia vita ed allontanarmi per sempre dalla mia famiglia o per zittirmi definitivamente tramite la psicopolizia. Molto probabilmente l'iniziativa proviene solo apparentemente dall'avvocato Vecchi, intrapresa in scambio di favori da certi magistrati disperati dal pensiero che, eventualmente, io potessi trovare un magistrato onesto nel mio tour d'Italia che fosse disponibile a scoprire le carte false dei vari comitati d'affare i sodali criminali che agiscono presso i palazzi di giustizia locati nella patria della massoneria, dalle procure provinciali fino alla cassazione che agiscono sotto la copertura mafiosa massonica. Caro avvocato, se lei non sa, prima di essere interdetti, occorre il processo di interdizione. Questa comporta la perizia psichiatrica. Tale perizia psichiatrica deve essere pubblica alla presenza della stampa e radio tv. Inoltre, se lei non lo sa, personalmente la mia incapacità di intendere volere potrebbe darmi l'infermità mentale al 100%. Ci sono percentuali più basse. Presumo, lei essendo sano di mente, non abbia nulla in contrario a sottoporsi a perizia psichiatrica, pubblicamente, assieme al Morini, al suo collega avvocato e magistrati che l'hanno istruito come attaccarmi psicologicamente e presenziarsi con tutti gli atti ingannevoli che lei ha portato sulla scrivania dei magistrati che volevano proprio essere ingannati, nei vari procedimenti disonestamente insabbiati, a carico del Morini, nonché a carico della famiglia dello stesso. Porti con sé anche le sue querele presentate a mio carico, allo scopo di ottenere la mia condanna a risarcimento danni, dopo che lei gratuitamente mi ha chiamata in un'aula di un tribunale, nonché nei suoi atti diretti all'autorità giudiziaria, puttanella, bugiarda, malata di mente, delinquente, ladra, calunniante, estorsore, usuraia, appellativi non risparmiatimi, dal suo socio avvocato, Ugo Vescio, che non esitava nel disprezzarmi anche per le mie origini estere. Pretendete il risarcimento anche per le vostre menzogne, che ha fatto sì che il falso trionfi sul vero, dopo che il Morini si è ancora divertito con me per lunghi anni, finché duravano i soldi da spellarmi, senza vergognarsi di farmi trascinare sul banco degli imputati, sapendomi innocente, senza doverne mai rispondere. Il Morini si è rivolto a lei, per essere scagionato dai reati permanenti commessi a mio danno in un'associazione a delinquere di tipo mafioso della quale era l'ideatore, il cervello, il coordinatore delle azioni delittuose anche dei suoi amici clienti, uomini d'onore. Non vi siete vargonati di denunciarmi, pur essendo ben coscienti delle falsità palesi degli atti, delle vostre dichiarazioni rese ai magistrati e delle deposizioni pilotate dai vostri testimoni falsi colosi tra di loro. Dal dizionario medico, il concetto di capacità di intendere e di volere è il seguente. In senso giuridico, la possibilità per un individuo di comprendere se i propri atti possono contrastare con le prescrizioni di legge o i comportamenti che costituiscono reato o meno, capacità di intendere e di determinare i propri atti, ossia mettere in atto o meno un comportamento antigiuridico o antisociale, capacità di volere. Si tratta di un concetto giuridico che interessa la psichiatra forense quando un giudice, disponendo una perizia, richieda di accertare se la consapevolezza e l'intenzionalità dell'imputato fossero abolite o indebolite per vizio totale o parziale di mente. Da De Agostini. Pur non essendo una psichiatra, a prima vista le persone da interdire per essere incapaci di intendere e volere siete voi avvocati, il suo assistito, classificato dagli stessi giudici per un delinquente abituale come emerge dalla sentenza che qui citerò, nonché i magistrati che mi negano ogni diritto di legge e i quali hanno creato diversi comitati d'affari per salvare i beni del Morini e dei suoi complici, dei sodali criminali per insabbiare i vari procedimenti penali, nonché di aggiustare il processo truffa RG 1376-01 che è la ragione della mia reazione agli atti arbitrari. Questo secondo il diritto penale, abuso di potere, provocazione, istigazione e associazione a delinquere di tipo mafioso ex articolo 416 bis codice penale. Il re occolto in flagranza dei reati permanenti qui richiamati e soggetti all'arresto anche da parte del privato a sensi e per gli effetti dell'articolo 383 codice procedura penale. Le faccio vedere una parte della motivazione della soluzione del dottor Morini. La capacità a delinquere del medesimo Morini che si stima essere non irrilevante gravato da un numero apprezzabile di pregresse condanne che induce il giudicante non solo a considerare come le pregresse vicissitudini giudiziarie non abbiano sortito alcun effetto di deterrenza dissuasiva ma anche affondatamente valutare nel complesso la personalità del prefato come tendenzialmente pericolosa per la collettività e come appartenente a soggetto proclive a delinquere oltre che come non avvolse dal commettere delitti della medesima indole di quello per cui si procede. Questa era la motivazione per la soluzione dal reato contestato al Morini. Per il Morini nessuno ha chiesto la visita psichiatrica. Dottoressa Eva Pollack di Montecatini terme. Per il Morini